LOS SANTOS LOS SANTOS Ciao a tutti cazzoni, come state? Spero tutto ok. Avete visto? Ma chi le fa le intro belle così? Nessuno, hkkk. Adesso sto pure su GTA. Spero che vi piaccia, e mi raccomando lasciate un bel dito all'insù se volete vedere altri video su grande furto d'auto, hkkk. E triche tracche, ed aie che c'ho quattro tache. Allora regà, ho appena creato un nuovo personaggio, lui e Willy, il principe di Los Santos, e da oggi seripiamo la città. Mentre vedrete sto video, avrò la mia crew e se volete potete entrarci, così spaccamo tutti e derubiamo i kebabari, hkkk. Iniziamo bene, prendiamo questa che sembra buona. Oltre alla mar, c'è sta anche un altro giocatore, mo lo spacco, daie. E tre. E due, e uno a via. Daie core turbo o. Tanto vinco io stronzo. No no, non farlo. Brutto figlio di mignotte solo così sai giocare. Tanto mo vai lungo, cojone, hkkk. Mazzuna ragazzi prevedo il futuro. Prima posizione presa, mica sto qui a pettinare le papere. Io sto a fa mangiare la polvere, hkkk. Minghiè, si è arreso, non corre più, che merdone, pepe, 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 pepe. Più p2o. Ficcatelo dritto nel culo, hkkk. Ok ok, adesso devo andare a comprare i vestiti nuovi, speriamo che Piazza Italia sia ancora aperta, avevo sentito che c'è stavano gli sconti. Ciao bellezza, come stai bella topa, ti trovo molto in forma, ci vediamo dopo nel camerino allora. Vediamo che posso comprare. Prenderò la maglietta di Luke, hkkk che bella tigre, questa mi farà vincere sicuro. Quel negro di Lamar mi sta chiamando da mezz'ora, uffa, non capisce che non voglio comprare nessun braccialetto. Mi ha detto di andare a fare la rapina ad Abdul il kebabaro del quartiere. Dicono che vende la roba scaduta e fa concorrenza all'ipercoppe, facciamogli e vede chi comanda. Mo so cazzi tua. Te faccio passà la voglia di vendere kebab scaduto. Forza che babbaro, sgancia, paga, sborsa. Dammi tutto l'incasso stronzo, dai dai, forza. Brav, brav, ora batti il 5, hkkk. Oh, cazzo gli sbirri, lasciatemi libero. Vendetta vera non finirò in galera, truce baldazzi forever, hkkk. Non mi avrete mai, farò di tutto per scappare merdoni. Non mi prenderete nemmeno con le trappole per gli orsi. Conosco queste strade come il mio portafoglio. Quanti cazzo de pali che prendo, ma zunna ragazzi, devo riprende la mano. Ti è che curva. So popo fiero. Aspettate che devo fa una loffa, e non me va, de impuzzoli tutta la macchina. Oh yes, che profumino. Ora andiamo a mettere le modifiche gratis che me le hanno regalate coi punti dell'ipercoppe. Bibi largo. A forza de comprei cereali nesquick, oltre a hkk, come e con i li pure io, ho preso un sacco de punti all'ipercoppe, e mi hanno detto che li posso usare per comprare modifica gratis. Vediamo un po' cosa posso comprare. Dai, ecco mettiamo il motore più forte anche se non farà molto. Bene, ora scelgo la colorazione. Sì, questa color merda può andare. Sarà la stronzo mobile, hkkk. Ma quanto è bello andare in giro con la merda sotto al culo, la 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 la. Che rombo merdeggiante, proprio una cosa sopraffina. Non vedo l'ora de sali de livello a sblocca più cose. Ok ok, Big Smoke mi ha chiamato, ora se famo du spari in un bella LTS. So proprio carico al massimo per sparare. E siamo qua, che bello siamo uno contro due, uno sembra Abdali il cugino de Abdul, e quell'altro sembra un transettone, e te pareva. Ma vi farò lo stesso er culo, hkkk. Ok ok, sono pronto. Allora qua dobbiamo fa un tatticone, che se me attaccano nello stesso momento son po' inculato. Adesso proviamo a camperare sul tetto. Non si vede nessuno. A Cipigna, meglio scendere. Ma sta moto è quella che me hanno inculato l'anno scorso, minghie, maledetti ricettatori. Ti è che sgassate che faccio. Brun, Bruna Scutaroni, e si va. Mo' è fo' l'imboscata. Che ore so. Le 7.20, apri il culo e stringi i denti, hkkk. Ecco il ciccio budellone, mote in culo ben benino. So è il cecchino più forte, ti sparo in fronte, hkkk. Bang bang bang, muori budellone. Olè, il primo è andato, ora tocca il transettone. Brun, Brun, Scutaroni, hkkk, ma che cazzo sto dicendo. Sta arrivando molto velocemente, meglio scendere dalla moto. Oddio il camion della monnezza, so arrivati gli scopini, hkkk. Avanti, dai e fatte veve, potere dell'agamee, bang bang bang. Olè, visto, gli ho aperto il culo anche se ero da solo, hkkk. E sto dito ficcatevelo dritto dove non batte il sole, stronzi. Sono andato da Terranova, che c'è stavano gli sconti migliori, e mi so comprato sti vestiti. Ora sembro più serio, hkkk. Mi raccomando regà, se il video vi è piaciuto dovete lasciare un dito all'insù. È davvero importante per me. Condividete questo video con i vostri amici, e aiutatemi a crescere, voglio fare di più, e ho bisogno di tutto il vostro supporto. Iscrivetevi, e commentate che vi rispondo. Penso che per oggi è tutto. Ciao a tutti cazzoni, alla prossima. Ciao a tutti.